squadra in campo per la seconda giornata del Venice Champions Trophy qui allo stadio chiggiato di Caorle un venerdì molto caldo ma anche ventilato per questa seconda giornata che nella parte mattutina della programma prevede la conclusione della fase a Gironi terza giornata dopo che ieri tra mattina e pomeriggio ci sono state sono state disputate le due prime partite e la classifica del gruppo A quello che vede Roma Corinthians Benfica e Paris Saint Germain vede i giallorossi a quota 6 punti a punteggio pieno a pari punti Corinthians e Benfica con i campioni uscenti che ieri sono stati battuti 1 a 0 dal Corinthians e a 0 punti ma ancora con delle chance di qualificazione il Paris Saint Germain perché bisogna ricordare la formula di questo torneo 12 squadre partecipanti 8 superano la fase a Gironi e dunque le due migliori le prime due di ogni raggruppamento più le due migliori terze tra le tre che appunto usciranno dei tre gironi dunque sarà una mattinata di calcoli di incroci di calcoli come legati alla differenza reti ai gol fatti gol subiti anche scontri diretti seguiremo in diretta entrambe le partite di ogni gruppo si parte alle 9 dunque con su questo campo Corinthians e Paris Saint Germain e sul campo accanto parallelo Roma Benfica naturalmente i due risultati sono assolutamente collegati in quanto proprio con i parametri legati agli scontri diretti alle differenze reti verrà compilata la classifica finale si danno la carica ai piccoli del Paris Saint Germain che ieri sono stati anche piuttosto sfortunati perché insomma meritavano forse qualcosa in più degli zero punti raccolti tra Benfica e Roma il gruppo A sembra quello qualitativamente più alto non ci sono squadre inferiori o comunque più arrendevoli il Corinthians battuto in maltrinata della Roma poi clamorosamente battuto il Benfica proprio a sottolineare la grande il grande equilibrio che regna tra le quattro squadre di questo aggruppamento in una espressione di un calcio di livello altissimo Brasile Francia Italia e Portogallo dunque livello molto alto come molto alto il livello di tutto questo torneo sta per iniziare la partita tra Corinthians e Paris Saint Germain con i brasiliani in tenuta bianca con righe nere e il PSG con la prima maglia quella blu con banda centrale rosso scuro il Benfica che manovra allora con Gustavo che batte la rimessa laterale il contrasto tra il numero 13 Iago e il numero 5 del PSG Junior Chilianco le là tra i migliori giocatori della giornata di ieri anche se in realtà è l'unico giocatore ad aver ricevuto un cartellino giallo tra le 12 partite in programma tutte le insegne di un grande fair play di una grande correttezza l'unico colè là che aveva commesso un fallo piuttosto duro ai danni di uno giocatore della Roma ieri un po' di polemiche anche nella gara tra PSG e Roma con un gol fantasma non convalidato a favore del francese che è stato seguito un minuto dopo dal gol della Roma che ha fatto un po' arrabbiare lo staff del Paris Saint Germain in questo momento sono i brasiliani che fanno la partita Corinthians che come detto ha tenuto entrambe le volte sullo 0 a 0 il primo tempo sia contro la Roma che contro il Benfica e poi è riuscito a battere la formazione portoghese con un gol del giocatore che sembra quello più forte più pronto di questa squadra il numero quattro Matteus leader difensivo anche piuttosto un formato fisicamente che ha infatti sentito di testa il gol della vittoria sul Benfica su situazione a calcio da fermo quasi davvero come se fosse una partita da grandi insomma un ulteriore indizio dell'alto livello di questo torneo c'è il Corinthians che fa la partita pallone messo al centro allontana il numero 7 Raffael Fernandez ancora però Matteus per servire Vinicius recupera palla la formazione francese all'indietro verso il portiere Douglas che rischia commette un grave errore il Benfica va in vantaggio con il Corinthians va in vantaggio con Pedro dopo pochissimi minuti il Corinthians in vantaggio 1 a 0 ed è un gol che subito complica i piani di rimonta del PSG l'errore di Douglas che si fa soffiare il pallone da Pedro che poi lo infila sul primo palo e allora Corinthians 1 PSG 0 un gol piuttosto rocambolesco nella sua realizzazione e in ogni caso vantaggio che mette il Corinthians quasi in discesa per questo primo match di giornata il gol del numero 7 Pedro il suo primo gol in questo torneo anzi il secondo gol dopo quello realizzato alla Roma Pedrinho da distinta lo chiamiamo Pedro ma insomma è lo stesso giocatore che qui ha anche concorrenze che ha anche dato vicino al 2 a 0 ancora PSG che adesso deve reagire con il terzino a sinistro Ovre che ha segnato ieri il gol del momentaneo vantaggio del PSG sul Benfica un risultato questo che di fatto rischia seriamente di far concludere il PSG a quota 0 ma c'è ancora tempo con la Corinthians che però continua ad attaccare la soluzione di Gustavo alta sopra la attraversa ottimo inizio dei brasiliani gol di Pedro potrebbe anche demoralizzare ulteriormente un PSG che certamente non si aspettava di concludere a 0 punti questa manifestazione a riprova dell'alto livello di questo gruppo A però la formazione francese reagisce parla al centro ancora l'ottimo Mateusz altra lontana e poi c'è il numero 12 del PSG che ti rivivo l'attacco parla al centro ancora Mateusz si trattava di Kellei ad aver portato una minaccia contro più del PSG c'è Pedro tutto solo poi Colella con il fallo e c'è il calcio di punizione per il Corinthians di fianco una volta il giallo il difensore del PSG che è stato saltato nettamente da Caio e si è che si è preso un calcio di punizione brutto interamente di Colella sulla tibia del giocatore brasiliano punizione a favore del Corinthians per fortuna nulla di grave per il difensore per l'attaccante brasiliano Corinthians che è dunque in questo momento a quota 6 punti via aggiorneremo anche sul risultato sul campo a fianco tra Roma e Benfica risultato che ancora non si è sbloccato 0 a 0 dunque in questo momento in testa la Roma a 7 punti Corinthians 6 e Benfica 4 che addirittura sarebbe terza la squadra detentrice ancora Corinthians che gioca molto bene e sta davvero legittimando il vantaggio da qualche minuto la formazione brasiliana è certamente la più pericolosa Vinicius larga sinistra c'è ancora un'iniziativa da parte del numero 6 Caio battuta velocemente la rimessa Pedrinho ancora per Caio che cerca il fondo recuperato da Elanac che mette la palla in fallo laterale altra rimessa in attacco per la formazione brasiliana che continua a fare la partita nonostante il vantaggio ancora Vinicius pallone campanile nel rigore a cercare il numero 2 Gustavo allontana la difesa del PSG poi over prova a perfezionare di testa Venetilipe mentre la palla giù il numero 8 ma viene fermato in maniera regolare dalla distanza la conclusione tentata tra il numero 7 Pedro sul fondo solo Corinthians in questi minuti iniziali sta soffrendo decisamente il PSG che era stato anche più brillante ieri intanto c'è un problema per il numero 13 Iago rimasto a terra il gioco fermo entra in campo lo staff medico del Corinthians per soccorrere il giocatore colpito alla testa ma nulla di grave rivediamo qui è intervento molto insidioso di Venetili gamba alta piede pericolosamente vicino all'orecchio del giocatore brasiliano tutto posto però soltanto una botta ma tutto assolutamente risolto per il giocatore che rimane al suo posto il PSG che riparte proprio dal numero 8 Venetili che ieri ha colpito un grande palo su punizione contro la Roma rinvio da parte del portiere Duglai Uvre non riesce a controllare la palla è brasiliana Corinthians che sta giocando bene aveva giocato una buona partita contro la Roma già ieri bloccando i giocatori sullo 0 a 0 per metà partita poi sono stati un po' travolti nel video di ripreso dalla Roma ma sono stati davvero eccellenti senza subire gol dalla squadra detentrice è un risultato eccellente anche dal punto di vista difensivo per questa squadra che ha forse uno dei più bravi registi arretrati ovvero questo Mateusz che anche in questo momento ha toccato il pallone riparte il PSG con Uvre che però viene fermato ancora Corinthians con Gustavo pallone largo per lo scatto di Pedrinho la spallata di Colelà lo mette giù tutto regolare gioco regolare contrasto di spalla con Colelà che diciamo fisicamente ben più avvantaggiato rispetto al suo avversario ed è riuscito a fermarlo in maniera comunque regolare la rimessa dal fondo per il PSG se ne occupa il portiere Duglai poi arriva un giocatore che inizia a smettere la palla in rete ma naturalmente il gioco non è ripreso si trattava di rimessa dal fondo Duglai ricordiamo una regola e non si può rinviare lungo per un giocatore che si trova nella metà campo opposta in questo caso viene attenzione all'errore da parte ancora del PSG in fase di costruzione da dietro e la rimessa in attacco per il Corinthians che sta diciamo sfruttando questo piccole queste piccole incertezze dal punto di vista difensivo del PSG per rendere pericolosa la propria azione e portare un pressing costante rimessa adesso per il PSG che deve ancora però di fatto arrivare alla conclusione il Corinthians ieri ha davvero impedito al Benfica di essere pericoloso per oltre metà partita così come la Roma ha sofferto per almeno un tempo prima di trovare il bandolo della matassa è una delle squadre difensivamente più interessanti dell'intero torneo e d'altra parte e la miglior difesa di questo giro ne ha subito solo tre gol come d'altra parte la Roma è ben fica e anche però il peggior attacco va detto dopo il Krasner che ha dato un gol soltanto due reti per la formazione brasiliana che è ben poco brasiliana dunque nella gestione del risultato e dei gol avanza il PSG guadagna metri ma pericoli sono ancora pochi adesso si fa vedere Kaylee poi ancora Uvre all'indietro per Colella una buona soluzione viene però fermata l'azione del PSG ancora il Corinthians che prova a ripartire lo fa adesso con il numero 7 ancora Pedrinho Colella tutto regolare ci alza qualche protesta la panchina del Corinthians ma non c'è in realtà nulla da segnalare c'è soltanto rimessa con le mani per il PSG battuta velocemente ancora in avanti numero 4 Elanach pallone che si impenna di testa lo colpisce Vinicius serie di colpi di testa anche Kaylee poi mentre parla a terra il numero 7 del PSG Fernandez Colella in avanti poi Gustavo si lotta centrocampo il Corinthians sarà meglio con Gustavo tutto regolare Venetili forse un fallo si continua a giocare grande mischia in mezzo al campo alla fine allontana Venetilin fallo laterale 9 minuti quasi del primo tempo il Corinthians è in vantaggio 1 a 0 nonostante la grafica dica diversamente ma fidatevi siamo 1 a 0 per il Corinthians con un gol segnato da Pedrinho il suo secondo gol del torneo dopo quello realizzato su punizione alla Roma che è tuttora l'unico gol segnato su calcio piazzato almeno su punizione nel torneo ieri c'è stato anche un gol incredibile direttamente da calcio d'angolo di O'Neill dell'Ajax in messa laterale per il Corinthians si preparano i primi cambi Murilligno si sta scaldando in panchina c'è l'azione giocata adesso per numero 9 che è entrato da poco Leny Pietra che va subito a portare pressione il disimpegno elegante della Corinthians nel numero 13 di Iago intanto c'è un gol un gol della Roma che va in vantaggio ed esultano anche i giocatori del Corinthians perché la Roma mette dietro il Benfica e allora il Corinthians si avvicinerebbe in questo modo al passaggio del turno da seconda ma sono conti che faremo eventualmente più tardi Pesce che cerca di riportarsi in parità bello il pallone dentro Mateus grande copertura attenzione a Ovrei deve uscire la porta è vuota e poi salva ancora Mateus anticipando il terzino e prendendosi anche la rimessa dal fondo grande copertura del solito impeccabile Mateus uno dei migliori difensori dell'intero torneo non soltanto in difesa ma anche in attacco ieri ha risolto un suo colpo di testa il match contro il Benfica Benfica che se la passa male i detentori stanno rischiando allora di finire invischiati nel giro delle migliori terze in questo momento hanno solo tre punti differenziarieti meno uno saranno conti che ci faranno compagnia per tutta la mattinata Corinthians che gestisce senza aver mai rischiato non ha mai portato pericoli alla porta di Bruno la formazione francese adesso la giocata strepitosa nello stretto di Iago che poi subisce fallo c'è la punizione per il Corinthians 11 minuti regge la rete di Pedrigno la Roma in vantaggio 1 a 0 gol di Ragone dicono mi dicono in aggiornamento è un gol che fa sì che la Roma possa in questo momento essere a punteggio pieno un girone difficilissimo Roma che davvero ha chance importanti anche in chiave titolo chissà pietra sbaglia malamente il tocco ricostituisce quasi il pallone alla Corinthians la palla è però sul fondo la rimessa laterale a favore della formazione francese allenata da Abderaim Fall grande giocata di Ruifed pallone sull'esterno messo in mezzo ancora Ruifed poi arriva la conclusione che lì è ancora il tiro al volo da parte di Tuamdi e la palla esce di poco sembrava essere in controllo del portiere Bruno rivediamo in ogni caso la giocata del numero 2 del PSG dopo il contrasto il tiro al volo un po' sporco accompagnato su fondo dal portiere che in realtà è Luis Paolo e non Bruno oggi c'è il secondo portiere del Corinthians in campo attenzione la fronte brasiliana un 2 contro 1 il pallone ottimo per lo scatto di Caio davanti al portiere viene fermato e recuperato da Gomis si arrabbia la panchina del Corinthians aveva la possibilità di fare meglio da questo 2 contro 1 la formazione brasiliana nella rimessa adesso ancora per i brasiliani 12 minuti Corinthians che sta giocando meglio sta meritando il vantaggio pallone l'indirizzo del solito Caio appoggia su Gustavo bello il duetto ancora Gustavo va al tiro in porta la risposta in due tempi da parte di Duglai che tiene il pallone colè là un invio di sinistro colpito male la palla resta in campo c'è ancora il solito impeccabile Mateusz a mettere la palla in fallo laterale è over scambi con il contrasto da Pietra e Mateusz la palla esce ed è rimessa dal fondo Pietra che ha lasciato un gol molto bello ieri contro il Benfica uno dei gol più belli della mattinata con gioco di gambe di tocco molto elegante però poi si è un po' fermato lì non ha non sossegno altre prodezze non si è fatto notare per molto altro però è lungo ancora per il scatto del solito Pedrinho davvero fastidioso questo attaccante che mette da solo in difficoltà l'intera le traguardia parigina l'errore stavolta di Mateusz notevole evento notevole di questa partita fermato Pietra dall'intervento del numero 11 João Pedro perfeziona Gustavo, Venetilli, Colela ancora Buamdi Luifed ma è impreciso del tocco la rimessa è ancora per i brasiliani Piaget che fa un po' fatica francamente contro una delle squadre meglio organizzate difensivamente in tutto il torneo il Corinthians Brasile che porta per la prima volta una squadra al Venice Champions Trophy è una squadra di assoluto livello il fallo il fallo netto da parte di Buamdi che poi va subito a chiedere scusa un bellissimo gesto questo del numero 2 del PSG fallo commesso del i danni della leader di questa squadra Matteusz l'errore a cui non rinuncia mai staff tecnico del Corinthians ci avviciniamo al quarto odore del primo tempo 1-0 Corinthians però non è messo calciato in avanti colpo di testa da parte della PSG poi c'è un fallo in attacco da parte di Pietro Igno su Colela e la punizione per i francesi che devono affrettare i tempi il lancio di Roy Fed cercare Pietra molto lungo facile preda il portiere Joao Luis Paolo dicevamo di questo regolamento che prevede che non si possano effettuare rinvida al fondo oltre il centrocampo si parla di situazioni proprio di rimessa dal fondo mentre invece per quanto riguarda i lanci nessuna limitazione ma c'è il fuorigioco a 3 metri come la regola del calcio giovanile una situazione tattica simile per fare un esempio in un altro sport alla palla a nuoto in cui non si può servire in avanti un giocatore che stazioni più avanti di tutti negli ultimi 3 metri di campo qui il regolamento è concettualmente simile proprio per evitare che qualche squadra possa avvantaggiarsi per lo strapotere fisico di un attaccante che in fatto obbligherebbe la sua squadra a giocare su di lui ma non è questo il senso del gioco almeno non per i bambini di 10 o 10 anni quanto sulla collettività e sul gioco di squadra e così le regole allora incoraggiano questo atteggiamento ancora il numero 2 Quamdi sta salendo un po' ora il PSG il pallone però è facile preda di Gustavo poi il PSG che prova a partire attenzione al solito Pedrinho contro Colella si rinnova il duello Pedrinho lo aiuta Quamdi e recupera il pallone la formazione francese tiene il pallone in campo solo per un attimo Gomis di fatto lo regalerà Corinthians che può andare in contropiede Colella è scivolata poi ancora Gomis recupera il pallone si lotta a centro campo può partire velocemente il controattacco del PSG con Gomis gran pallone ma c'è ancora l'eccellente copertura di Mateusz che trasforma l'azione da difensiva in offensiva azione clamorosa del difensore del Corinthians che poi di fatto fa 40 metri di campo di corsa e serve Pedrinho fermato dalla difesa del PSG davvero impetuose le cavalcate di questo numero 4 che ora rimane in attacco a portare il pressing accompagnato da Iago all'indietro Dugla Iper il numero 6 Rui Fed Rui Fed avanza adesso sono un po' meno attente le marcature le coperture ne beneficia lo spettacolo palla verso Gomis che è in scivolata porta il contrasto e ottiene una rimessa laterale che il PSG batterà in attacco serie di cambi in campo il numero 5 Murillo e anche il numero 9 Victor nel Corinthians escono Gustavo e Pedrinho l'autore del gol due cambi per i brasiliani calcio a un angolo di Gomis palla al centro colpo di testa di Colella la palla resta in area esce il solito strapitoso Mateusz che va a lanciare poi Victor fermato alla grande da Pietra in insolita posizione difensiva ancora però il Corinthians ancora è l'ottimo Pietra che si trova in questo momento a fare il difensore centrale adesso riguadagna la sua posizione originale scala in difesa a Qamdi Colella alla sua sinistra viene servito in questo momento il capitano dei Parigini che controlla male rischia di farsi soffiare il pallone da Murillo Colella di fisico riesce a stare davanti all'avversario appoggia su Duglai che rinvia in qualche modo all'intervento numero 13 del Corinthians Iago ancora Colella lancia in avanti a cercare Pietra il contrasto la palla è preda di Mateusz difficile togliere la palla a Mateusz che fa una giocata strapitoso poi però viene fermato dall'intervento del numero 7 parale di gole l'occasione per il PSG Pietra ribattuto la conclusione sul fondo da parte di Gomis la migliore occasione della partita per il Paris Saint Germain sulle destra di Diulis Gomis era rimasto fermo Luis Paolo nata bene al PSG alla Corinthians che ha corso un brutto rischio Mateusz raddoppiato è stato fermato una volta tanto il roccioso anche se ha soltanto 10 anni l'ha detto il roccioso difensore del Corinthians è stato battuto fisicamente da due avversari c'è stato bisogno di due giocatori per togliergli il pallone buona un break di Rui Fed che allarga la destra per l'arrivo di Gomis pallone in mezzo ancora un'occasione per il PSG che non riesce che non riesce però ad andare alla conclusione ancora lì la formazione francese con Cuamdi che prova il destro ribattuto la palla si impenna deve uscire il portiere a vuoto porta vuota soffre il Corinthians palla che rimane lì grande mischia alla fine esce il Timão che allontana il pallone Timão che è il soprannome storico della formazione brasiliana vuol dire in portoghese la grande squadra grande team quindi il Timão così come è chiamato sia dai suoi tifosi che anche dagli appassionati di calcio sudamericano e anche la sua versione mini devo dire che si sta comportando all'altezza della storia della fama di un club così prestigioso club di Sao Paulo pallone in campo grande giocata nello stretto del numero 5 Murilo poi pallone però recuperato dal PSG che riparte ancora con Gomis che sta giocando una buonissima parte di primo tempo qui viene chiuso da Vinicius e ottiene la rimessa laterale 40 secondi all'intervallo PSG sotto in questo momento la classifica dice Roma 9 Corinthians 6 Benfica 3 PSG 0 tutto molto chiaro almeno all'apparenza per quanto riguarda il discorso delle qualificate intervento scorretto da parte di Pietra si va verso l'intervallo con il pallone in controllo del Corinthians che non ha fretta di riprendere a giocare intanto c'è un altro cambio rientra Pedrinho è uscito Iago e termina con qualche seconda in anticipo il primo tempo 1 a 0 per il Corinthians Pedrinho gol nei primi minuti di gara che di fatto obbliga i francesi a rimontare per avere l'esperanza di passare il turno di nuovo in campo per il secondo tempo di questa partita tra Corinthians e Paris Saint Germain il primo tempo è terminato 1 a 0 per i brasiliani gol di Pedrinho dopo l'incertezza del portiere francese Douglas La Roma è in vantaggio per 1-0 sul Benfica, gol di Ragone che di fatto si sistema la classifica del gruppo A in questo modo, Roma 9 punti, punteggio pieno, Corinthians 6 punti e 3 punti soltanto per il Benfica, squadra detentrice del titolo che a questo punto dovrà aspettare e sperare che ci sia almeno una squadra terza classificata che faccia peggio di lei. In questo momento sembra davvero senza speranza, il PSG 0 punti deve vincere questa partita innanzitutto e poi vedere come si mette la situazione anche in chiave differenza reddito, tutto piuttosto complicato, però potrebbero esserci buone notizie per il Benfica. Si riparte allora con il PSG in possesso di palla con Venetilli che va a servire il suo compagno, poi Pietra fallosamente fermato dall'intervento di Gustavo e punizione per il PSG. Attenzione perché insomma proprio ieri un giocatore come Venetilli è stato pericoloso sul calcio piazzato colpendo un palo contro la Roma, sul pallone vediamo chi si porta, c'è proprio Venetilli tra gli altri. Siamo a una decina di metri dalla porta. Non è lui però ad andare sul pallone. Sembrerebbe Fernandes che c'è un po' la battuta, un gol stupendo, stupendo il gol di Elanac che pareggia, punizione bellissima del numero 4 dei francesi che si rimette a correre perché vuole vincere questa partita del PSG. Punizione capolavoro di Elanac, bellissimo gol, imprendibile per il portiere Luis Paolo, 1-1 PSG, davvero una perla. È cambiato il portiere di Corinthians, non è più Luis Paolo ma è Bruno, non cambia però il risultato, 1-1 PSG, Elanac. Punizione stupenda, la seconda rete su punizione del PSG. E pareggia anche il Benfica con Gonzalo Moreira. Allora tutto ancora cambiato nel giro di pochi secondi su un campo e sull'altro. Sono tutte in situazione di 1-1 e questo naturalmente riapre i giochi anche per la terza posizione. Il PSG adesso è a un gol soltanto dalla possibilità di rientrare in corta per la qualificazione. Dunque partita appassionante con il Corinthians battuto su punizione, il secondo gol su punizione di questo torneo. Il primo l'aveva segnato proprio l'autore del primo gol di questa partita, ovvero Pedrinho contro la Roma. Elanac con l'aiuto della traversa segna una rete stupenda. E il PSG è vivo, è vivo. Una squadra che comunque ieri è stata in vantaggio sia contro il Benfica, addirittura per 2-0, che contro la Roma. E poi è stato rimontato oggi, chissà, magari le cose vanno diversamente dal punto di vista dell'andamento del risultato per la formazione francese che sembra scesa in campo nel secondo tempo con un spirito comunque positivo, uno spirito costruttivo per andare a riprendersi. Questa partita è la possibilità di proseguire per le posizioni che contano nel torneo. Corinthians adesso guadagna un calcio d'angolo e si riporta in avanti la formazione brasiliana. Sicuramente spettacolare la soluzione di Elanac. Fu sorpreso, tutti aspettavamo il tentativo di Benetilli. È andato invece di destro Elanac e ha messo la palla sotto la traversa. Calcio d'angolo, attenzione a Mateusz, ma si fa apprezzare Colella nel salvataggio. E poi velocissimo Benetilli che se ne va in contropiede. Palore al centro a Mateusz. Anzi, non è Mateusz, ma si tratta del numero 12 Luis, anzi Iago. Poi ancora il PSG, guadagna calcio d'angolo. Atteggiamento diverso della formazione francese Gustavo. Chiedo scusa, Gustavo è stato lui bravissimo ad intervenire sul pallone di Benetilli. Calcio d'angolo, lo batte ancora Elanac. Attenzione a Colella e a Gomis. In area di rigore, i due giocatori più alti del PSG. Palore batto in mezzo, l'uscita di Bruno. Poi Benetilli va a lottare con Gustavo. Palone allontanato da Mateusz che lo spazza senza grande precisione. Altrumento forse scorretto di Uvr si continua con Pieter che si trova ancora una volta in posizione difensiva. Palone allargato per il controllo del numero 6, Caio. Caio in graddoppio, gli porta via la palla numero 12, Kelehi. Poi Pieter, ancora Elanac per Kelehi. Pallone in basso al centro, ora balla la difesa del Corinthians con un PSG davvero gagliardo nelle sue azioni. Corinthians che però può andare via in contropiede, lo fa con il solito Pedrinho. Punta Colella, Pedrinho tiene palla, poi l'allarga per Gustavo. Gustavo ancora Pedrinho, Pedrinho se ne va su Colella. Prova il sinistro, la risposta in due tempi del bravo portiere Duglai. Non rinuncia ad attaccare il Corinthians. 5 minuti, partita apertissima a ogni risultato. Sull'altro campo, ricordiamo, 1-1, ha pareggiato il Benfica, ha pareggiato la squadra detentrice con il gol del suo giocatore più forte, Gonzalo Moreira, 1-1 che di fatto rimette in corsa entrambe le squadre. In questo momento rimane secondo il Corinthians per lo scontro diretto a lui favorevole. E fa in gol la formazione brasiliana ancora con Pedrinho. Ancora Pedrinho, 2-1, la doppietta del numero 7 del Corinthians. Unico marcatore di questa squadra con 3 gol, anzi 3 dei 4 gol, l'altro l'ha segnato Mateusz. In ogni caso ancora Pedrinho, 2-1 e torna avanti il Corinthians e torna al secondo posto. La formazione brasiliana, 7 Roma, 6 Corinthians, 4 Benfica, 0 PSG. Adesso sempre più difficile per i francesi, che non si danno però per vinti, ancora con Pietra. Va via Mateusz, palla al centro, esattamente sul fondo, ma ci si tratta di calcio d'angolo, la chiusura di Mateusz. Ci sono anche dei tifosi, delle tifose brasiliane che incitano i propri figli probabilmente dagli spalti. 2-1 Corinthians, ancora Pedrinho, un gol molto bello dal punto di vista tecnico. si è dovuto inchinare, Douglas non ha neanche tentato la parata. E ancora Pedrinho ha spazio per andare in contropiede, velocissimo, prova a fermarlo Pietra. Pedrinho guadagna angolo, il numero 7 del Corinthians. 3 gol dei 4 del Corinthians, incite per il 75% delle reti. Non è angolo, in realtà la scuola di Pedrinho, l'ultimo tocco, riparte velocemente il PSG. Corinthians però che non si fa trovare impreparato il Timao, che può portare per la prima volta una squadra brasiliana ai quarti di finale di questo torneo. Un torneo sempre più di rilevanza intercontinentale, mondiale. dalla conclusione tentata da Iago, facile, stavolta la parata di Douglas. Il break di Keilly, fermato, ancora Pedrinho, resiste l'interronto di Benetilli, che poi lo mette giù, non c'è fallo, protesta la panchina brasiliana, si continua a giocare. Attenzione a Uvr, ha spazio per avanzare, lo ferma benissimo. Gustavo, ancora Uvr però se n'è andato, lo ferma anche Vinicius in calcio d'angolo. sette minuti, rientra con numero dieci, Julis Gomis. Intanto c'è una rete, la rete del Benfica che ha ribaltato il risultato. Due a uno, e allora è grande Ressa in testa al girone, tre squadre a sei punti. Tre squadre a sei punti, due a uno Benfica, e allora adesso faremo un po' di conti. Tanto il polo è in mezzo, è l'intervento decisivo, ma c'è fallo in attacco, carica sul portiere. Portiere Bruno aveva controllato il pallone, poi ha subito un intervento in gioco pericoloso dopo un'uscita un po' così. Intervento da parte di Venetilli, la palla vedete non è neanche entrata, non ha superato la linea. C'è stato un intervento comunque in gioco pericoloso di Venetilli. Due a uno Corinthians, due a uno Benfica sulla Roma. Se non andiamo errati, così è infatti. E allora in questo momento tre squadre a sei punti. Differenzareti che premia comunque ancora la Roma, proprio in virtù dei due gol di scarto in cui ha battuto sia il PSG che il Corinthians ieri. Roma che sarebbe in testa al girone. Anche se in realtà vanno questi dati di scontri diretti soltanto tra le tre squadre coinvolte. Aspettiamo qualche minuto prima di iniziare a fare un po' di conti. In ogni caso la Roma è dentro. Vedremo poi se prima o seconda. E sembra essere proprio il Corinthians, la squadra che potrebbe farne le spese, proprio per i due gol di scarto con cui ha perso dalla Roma. Vediamo però se dal campo noi aviacenti arriveranno altre notizie, cambi di risultato. Intanto mancano ancora 12 minuti, ancora molto lunghe le partite che stiamo seguendo. Questo gruppo ha davvero molto intricato quel commento fuori dai giochi. Sembra decisamente essere il PSG. La rimessa in attacco per la formazione francese che cerca comunque di almeno pareggiare. Sarebbero comunque solo due le reti che mancano al PSG per rientrare in corsa. Non è impossibile, anche se chiaramente col passare dei minuti la cosa si fa sempre più complicata. Uvr. Ancora Uvr. Fermato regolarmente. Cole Laris che è grosso. Con un rimpallo riesce a tenere il pallone. Lo apre per lo scatto di Qamdi. Matteo usciti fisico, subisce anche fallo. Grande copertura difensiva all'ennesima di questo numero 4 del Corinthians che sembra davvero uno dei giocatori più maturi. Anche fisicamente lo vedete davvero complicato da superare per bambini di una quarantina di chili. Una roccia, un colosso. Roccia, non nel senso di roccia ma nel senso di cognome. Il suo nome è completo. Lancia in avanti. Pette giù bene. Pedrigno. Poi gestisce, tocca l'indietro per Mateusz che ha un controllo infelice. Rischia di trascinarsela in calcio d'angolo. Riesce a tenerla in campo. Si fa attaccare. Intanto arriva il terzo gol del Benfica. Terzo gol del Benfica. Cambia tutto. Cambia tutto ancora. Attenzione a Corinthians che entra in rigore. Il tiro indirizzato verso l'incrocio da parte di Caio. La brava di Douglas. Pellai cambia tutto. Ancora. 3-1. Benfica. Crollata la Roma in questo momento. Adesso andremo un po' a fare di conto. Perché i due gol di scarto annullano i due gol di scarto di ieri della Roma contro il Corinthians. In questo momento la differenza è interna. La vede il Benfica in testa. E il Corinthians a meno uno e la Roma a zero. Quindi Roma a seconda e Benfica a primo. Ma è ancora lunga. E rischia davvero di farne le spese ma fino a un certo punto perché con sei punti il Corinthians può essere certo del ripescaggio. Pallone a giro. La punizione che termina sopra la traversa. Ha tentato il numero 7 Raffaele Fernandes. C'è stata deviazione. E ci sarà calcio d'angolo per il PSG che deve affrettare i tempi. Quindi vediamo la punizione di Fernandes. Deviazione che forse non c'era stata. In ogni caso calcio d'angolo per il PSG e se ne occupa Giulis Gomis. E il pallone messo fuori. Ancora sul fondo. È messo al fondo per il Corinthians. Vediamo che qui i bambini della panchina del Corinthians che ogni tanto si voltano verso il campo alle loro spalle. Proprio per avere notizie su quello che succede tra Benfica e Roma. Avrebbero preferito il vantaggio della Roma ma è un risultato questo che di fatto li può far stare tranquilli in ottica ripescaggio. Il tiro da fuori aria è improvviso. È la parata di Duglai. Corinthians che non rinuncia ad attaccare. 8 alla fine. Siamo qui pronti anche noi a fare di conto per ogni evenienza. Saremo più chiari, più certi, più ufficiali al finale ma in questo momento sembra proprio che possano passare in tre in questo girone. Ne guardiamo ancora la formula. Le prime due in ogni girone più le due migliori terze e con sei punti il Corinthians attualmente terzo è certo del passaggio del turno. Il numero 13 il Corinthians, Iago per Gustavo. Gustavo fermato. L'azione da parte di Gomis che viene fermato fallosamente. Il calcio di punizione è a favore del PSG. Tra sette minuti deve accelerare il PSG. che ha ancora una pallida possibilità di andare avanti ma deve vincere questa partita. Deve segnare due reti. Riportarsi a tre punti e poi rientrare nel discorso degli scontri diretti. Pallone pericolosamente deviato da Rafael Fernández. Soluzione acrobatica molto apprezzabile ma sul fondo controllava Bruno. 6 e 30 alla fine. Lancio lungo per Pedrinho. Grande contro la numero 7. Mette giù contro Colella. Il duello tra i due. Pedrinho tiene il pallone. Il Corinthians che non ha fretta e soprattutto ha la possibilità della capacità tecnica anche di tenere il pallone. Di far passare i secondi. Ancora Pedrinho. Uno contro uno su Colella che lo stende. Non il primo fallo di questo giocatore che fisicamente è molto dotato. Ma ogni tanto perde un po' la misura dei suoi interventi e cede nelle giocate scorrette. E' qui nettamente saltato, nettamente fuori tempo. L'intervento di Colella che in generale primo tempo non si era distinto per pulizia. C'è un cambio nel PSG. Rientra l'autore del gol. E la NAC. Desce Pietre. Punizione in mezzo. Duglai a vuoto. La palla passa. La gestisce il numero 3. Vinicius si tiene lì la rimessa del francese. L'ultimo tocco di Vinicius. Tutta male la rimessa dal PSG che però ne guadagniamo subito un'altra. L'effetto a Cheleic. Anzi Gomis. E' davanti la NAC. Attenzione va via Matteus. E' la NAC. L'uscita di Bruno. La porta è vuota. Il gol del PSG. 2-2. Si riapre tutto ancora una volta. Il pareggio dei francesi. Riprende il pallone ancora. E' la NAC. Lo riporta al centro del campo. Ma non è stato lui a segnare. Rivediamo. E' la NAC che va a disturbare Matteus. L'uscita disperata di Bruno. E poi arriva. Se non sbaglio Venetti lì. Aspettiamo di capirne con certezza. Ouvr. Chiedo Lumia che è la regia. E' stato Uvr probabilmente a segnare il gol del 2-2. E' il pareggio del PSG. 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 E' una volta tanti colpi di scena. In questa ultima giornata del gruppo A. Ancora Ouvr. Trova un angolo. Paris Saint Germain. Che adesso ci crede. Ci crede assolutamente. In piena corsa. Rimane giù adesso. Iago numero 13. Con le lalo. Va a tirare su. Anche con un po' di. Diciamo. Furbizia. Proprio per accelerare la ripresa del gioco. Penso che è a un gol. Da rientrare clamorosamente. E far fuori il Corinthians. Perché in caso di arrivare a tre punti. Se ne erano proprio i brasiliani. A salutare il torneo. Sarebbe una grande sorpresa. Per quello che è successo. E che si è visto. In questa partita. In ogni caso. Tutto. Ancora in gioco. Due a due. Un fermo Ouvr. L'autore del gol del PSG. Il suo secondo gol in questo torneo. Dopo quello realizzato alla Roma. Nella giornata. Alla Benfica. Nella giornata di ieri. Due a due. Un reti di Elan Aki Ouvr. Doppietà di Pedrinho. Corinthians adesso. Forse anche. Ci indicazioni del suo allenatore. Si prende qualche seconda. Qui contrasto tra Pedrinho e Venetili. Rimane giù il numero sette della Corinthians a terra. Tre e mezzo. Tre e venti alla fine. PSG che. Ha bisogno di un gol. Per andare al terzo posto. E per andare a sperare. Anche nei ripescaggi. Ci sarebbe più complicata con tre punti. Bisogna davvero. Aspettare. Cosa succede negli altri gironi. C'è un piccolo time out. Intanto. Nella PSG che. Ha bisogno di un gol. Intanto sta muovendo. Comunque la classifica è a quota. Un punto. Ne avrebbe meritati forse qualcuno in più. Ma il girone è davvero. Complicato. Difficile. Per ora in avanti. Corinthians in questo momento ha quattro punti e terzo. Ma. Moderatamente sicuro. Anche se non certo. Della. Possibilità di andare avanti. Ma non è finita. Due minuti. Ancora il PSG. Pallone in avanti. Allontanato. Senza Fronzoli. Nella difesa brasiliana. Non incorre Colella. Lo lascia Douglas. Rinvio. Un po' così. Deve procedere Qamdi. La pressione da parte di Gustavo. La rimessa è a favore del Paris Saint Germain. 2-20 alla fine. Che lì. Che lì. Qamdi. Attenzione alla Corinthians che prova la conclusione di battuta. Ci ha provato Iago. La palla è fuori. Fra laterale a favore del Corinthians. Due minuti. Due minuti che mancano anche tra Roma e Benfica. Qui il punteggio sembra più solido. 3-1 per il Benfica. Che a questo punto si prende la prima posizione del Girona. In virtù dello scontro diretto favorevole contro la Roma. Che è seconda. Tutto aperto qui. Per stabilire la terza classificata. Se la giocano in questi istanti. Corinthians e Paris Saint Germain. La possibilità di essere ripescati. In questo momento è 4. A 4 punti il Corinthians. C'è un fallo di mano. La punizione per il PSG. Due minuti anche meno. Uno e mezzo. Alla fine. Deve fare in fretta. Duglai. Un lancio in avanti. Da parte di Roy Fed. Fa passare la palla. E la Mach. La recupera però Bruno. Il dio corto. Attacca ed alza il pressing. il PSG con QMD. Recupera il Lannac. Grande giocata di Lannac. E poi prova dalla grande distanza. Una conclusione. Che Bruno. Tocca quel tanto che basta. Per metterla in angolo. Dal nulla. E Lannac. Da centrocampo. Ha cercato il jolly. E lo stava quasi trovando. Giocata strepitosa. Era toccato Bruno. La palla finiva sotto l'incrocio. Calcio d'angolo per il PSG. Palla al centro. E il pallone che taglia tutta l'area di rigore. Poi la palla è uscita. Ed è rimessa dal fondo per il Corinthians. Che se l'è vista brutta nel giro di un minuto. Un pallone pericolosissimo. Che ha tagliato tutta l'area. Poi è uscito. Occasione per il PSG. Che ci prova fino alla fine. Fino all'ultimo. Adesso Corinthians. Che perde il pallone. Lo recupera Quamdi. Ancora è Lannac. Scatenato. Il tiro di Venetilli. E la palla è alta. Qui non ha avuto grande lucidità. Il numero 8 dei francesi. Ha tentato di tirare appena possibile. La palla però è colpita male. Finita sopra la traversa. Allora stiamo davvero agli sgoccioli. Pochissimi secondi al quarantesimo. Ancora PSG. Che stringe da sedio. La metà campo della Corinthians. Ancora Kelein. In area di gore. Kelein. La parata di Bruno con l'aiuto del palo. Si carica il portiere. Non è finita. Ancora Bruno. La spazia. La palla è lì. Colpo di testa. Il miracolo. Ancora di Bruno. Incredibile. Finale di partita. Con il PSG. Un passo dal 3 a 2. Anche il portiere. Anche Duglai. Dalla distanza. La conclusione. Ancora Bruno. La tiene lì. E poi è lontana la difesa con Riccardo. E la partita sta finendo. Ma non è ancora finita. C'è spazio ancora per l'ultimo tiro di Venetilli. Ribattuto. A sedio del PSG. In area di gore. In finale incredibile di partita. Con il PSG a caccia della vittoria. Che lo rimetterebbe in corsa. Bruno. Miracoloso. Nel finale. Per dire di no. Più di una volta. Agli attacchi dei francesi. Tensione pazzesca. Nella tacchina del Corinthians. Che non vede l'ora che sia finita. Ancora Duglai. L'errore. Poi rimedia il portiere francese. Mancano pochi secondi. Concesso. Minuto di recupero. La palla è ancora di Duglai. Che ormai gioca stabilmente fuori dai pali. Si gioca ancora. Col PSG. Che non riesce però a portare l'ultimo attacco. Finisce la partita. Il Corinthians è terzo. Il PSG. A testa altissima. E' ultimo. Ma ha davvero tanto da recriminare per il finale di questa partita. La disperazione sportiva di Duglai. E' ero. E' diventato Bruno. Il portiere Bruno Froich de Paiva. con un paio di parate miracolose nel finale. E la classifica della Girone dice allora che lo vince il Benfica con sei punti sulla Roma. Grazie allo scontro diretto. A quattro punti. E terzo il Corinthians. A un punto eliminato. Il Paris Saint-Germain. Stretta di mano tra giocatori e allenatori. Partita bellissima fino alla fine per questa terza giornata della fase a Girone. Che apre il programma mattutino del venerdì del Venice Champions Trophy. A tra poco. Grazie. 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 Grazie.